È stata nuovamente portata in procura Veronica Panarello, madre di Loris Stival. Il bambino ucciso il 29 novembre è ritrovato in un canale nelle campagne di Santa Croce Camierina nel Ragusano. La donna è uscita dalla sua casa con polizie e carabinieri, nascondendosi il volto con il cappuccio ed è salita con il marito su un'auto civetta diretta negli uffici della procura di Ragusa. Secondo quanto rivelato dalla stampa locale, sarebbero almeno due le persone coinvolte nell'omicidio del bambino. I due colpevoli si sarebbero coperti a vicenda dopo aver strangolato Loris con una fascetta di plastica. Ma al momento non ci sono conferme da parte degli inquirenti.